Ciao, sono Paolo Bacci e un saluto a tutti i soci del Camper Club La Granda. Noi dal 2008 che abbiamo fatto accordi insieme, sempre rivolti al turismo, alla cultura del turismo del nostro abitar viaggiando. Abbiamo fatto accordi con la Via Francigena, abbiamo costruito insieme i comuni del buon vivere, abbiamo fatto TAS, che era il sistema turismo sostenibile, e poi soprattutto grazie a voi abbiamo potuto fare lo studio sperimentale sul CO2, grazie a coloro che hanno riempito le tantissime schede e l'unico studio su dati certi. In questi momenti è un po' tornato, si è stato riproposto questo studio da un noto giornalista che ci ha menzionato, però ancora penso che siamo stati un po' i precursori e ancora lo studio sperimentale è certo su dati certi, mentre gli studi precedenti al 2007 e quelli attuali della Germania sono tutti piccoli casi. Ora con questi filmati, che regolarmente vi proporrò, sono firmati rivolti un po' alla conoscenza, vi metto a conoscenza della mia storia. Ormai è oltre 45 anni che faccio questo lavoro, quindi è un po' una provocazione cercando di spingervi a fare un dibattito sulla storia del campe e il suo uso. Ho intervistato durante il lockdown dell'anno scorso i progettisti dei campe del passato come Loriano Corsi della CI oppure Frullano della Laica e il direttore commerciale dell'Arca di Pomerzia. Quindi vi invito a vederli, oltretutto ci saranno anche dei video tecnici da parte di Andrea, il nostro responsabile tecnico dell'officina, che vedrete che sono molto interessanti e vi potranno servire a tenerli sempre nel telefono perché in casi particolari vi potranno servire. Quindi un saluto e un augurio di buone visione. Grazie a tutti.